Cosa rappresenta per Agostino Cardamone questo passaggio di Solimene, Pandolfella e Caliano tra i professionisti? È un po' come tornare indietro nel tempo, quando io sono pastore professionista, dopo il titolo italiano direttante, allora la prima esperienza, un po' di emozione, però l'ho superato abbastanza bene, perché poi sono stato anche fortunato di avere la diretta Rai come primo match per me sono una grande soddisfazione. Dei tre, chi assomiglia di più ad Agostino Cardamone? Un po' Carmine, un tipo più Carmine Caliano, è più un tipo, diciamo, un fighter, mentre Solimene è un lungilineo, fa una box a più lunga distanza, mentre Pandolfella è più un fuggitivo.